Trasferta insidiosa, intanto la partita è cominciata per mettere le mani sullo scudetto, speriamo, grazie per l'accoglienza agli amici di Roma, Marika Speriamo, come ha detto Antonio, che sia una bellissima partita, insomma, speriamo di fare questa impresa molto, molto, molto ardua, ma come ha detto Pektovic, niente impossibile, per cui Mirko Zorro Vucinic, triangolazione che si chiude, Vucinic dentro l'aria, toccato, 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 ha monito, ha monito, ha monito, da rivedere, rivedere, rivedere 6 minuti e 45, Mirko Zorro Vucinic, cade a terra, palla, ha monito, mi dicono il giocatore della Lazio, vediamo un po', è calcio di rigore, è calcio di rigore è calcio di rigore, però non andarmi verso lo Juventino, è calcio di rigore, è calcio di rigore, netto, 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 avrei avuto molto da ridire, perché l'arbitro ha messo un ditino, ma Arturo Vidal e la Juve dopo 8 minuti passa meritatamente in vantaggio per un rigore sacrosanto, complimenti alla Juve ma la partita è lunga Vidal Il raddoppio di Arturo Vidal al minuto numero 27, pensate, un minuto fa ha sempre Vidal, ha avuto la palla per raddoppiare sempre lui ha tentennato troppo, è stata prova la difesa a respingere, rivediamo il gol del raddoppio, Arturo Vidal e le mani su questo oggetto non tanto misterioso, diventano due, 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 due Ancora Juve, ancora Juve, ancora Juve, ancora Juve, e sono quasi tre, e sono quasi tre, ma non lo sono Finisce al 48esimo e 5 secondi la partita che fa salire ancora più in alto la Juventus e fa, scusate, me l'ero preparato, mettere le mani sull'oggetto sempre meno misterioso TANGLED UP